Giorno del dolore a Lanciano per dare l'ultimo addio a Fernando Dinella, 62 anni, tragicamente coinvolto nell'incidente verificatosi il 13 settembre scorso alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Tre morti, il bilancio dell'esplosione di una granata di artiglieria pesante, insieme a Dinella hanno perso la vita altri due operai Gianluca De Santis di Palata e Giulio Romano di Casalbordino, chiesa Grimita, lo Spirito Santo, quartiere Santa Rita per salutare Dinella. La città si è fermata, è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco Filippo Paolini per dare un segno tangibile alla commozione della comunità. Tutti si sono stretti al dolore della moglie Giuliana, delle figlie Monia e Sara, della mamma Gilda e di tutti i parenti. Le parole del parroco Don Nicola Giampietro sono servite da monito contro le morti sul lavoro. Ogni giorno ci troviamo di fronte ad una lunga litania, ha detto, quella delle morti sul lavoro, una litania che non si arresta, è inaccettabile. La storia di Fernando ha commosso tutti, il suo corpo straziato è qui e rappresenta tutti i morti sul lavoro. Ed ancora, loro ci guardano e ci chiedono conto e quindi occorre impegno, responsabilità, concretezza, scelte coraggiose, ma le cose vanno cambiate. Presente il sindaco Filippo Paolini, che commosso ha portato le condoglianze di tutta la città, ha ricordato Fernando come persona onesta, dal sorriso e dallo sguardo che ispiravano serenità. C'erano anche i sindaci di Casalbordino e di Palata, in provincia di Campobasso. Commozione, dolore, le struggenti parole delle figlie. Caro papà, vogliamo dirti grazie, siamo orgogliose di te. Grazie per i valori che ci hai trasmesso, famiglia, lealtà, amore. Grazie per il coraggio che ci ha insegnato. Grazie.